Nella giornata di martedì 28 giugno, dopo quasi due mesi di trattative, è stato sottoscritto da FIM, FIOM e WILM Territoriali l'accordo per il passaggio dei lavoratori di OMA in Lear dopo l'acquisizione da parte di quest'ultima avvenuta il 25 marzo 2022 dalla procedura fallimentare. Dopo la mobilitazione delle maestranze e l'approvazione dell'esercizio provvisorio che ha consentito la continuità lavorativa e occupazionale, è iniziato il percorso che con non pochi ostacoli ha traguardato Lear, azienda legata al settore aerospace con sede nella provincia di Benevento. Però oggi permettete di dirci che è una bella giornata perché per l'ennesima volta si riafferma che questo è un territorio che ci tiene tanto al lavoro e che attraverso l'appartenenza a un territorio molto dedicato ai sacrifici, attraverso la personalità dei lavoratori, attraverso la competenza, siamo riusciti a salvaguardare i posti lavoro di 219 persone. Ora i sindacati sono in attesa di discutere con l'azienda il piano industriale a garanzia degli investimenti futuri e di avviare una discussione in merito alle peculiarità dei singoli territori. L'arrivo di un acquirente dopo varie aste andate deserte ci fa sperare in un futuro anche in un'altra azienda però in un futuro roseo e su questo noi chiederemo anche rassicurazioni nella richiesta di un piano industriale degli investimenti. L'accordo che abbiamo siglato unitariamente e con il mandato l'appoggio di tutte le maestranze garantisce diritti per tutti.